Bentornati! E non vogliamo fare un video sui Mineskin che apparentemente nel mondo non si parla d'altro? Facciamo un video sui Mineskin. Allora, partiamo però da un presupposto che è importante per mantenere quella onestà intellettuale che cerco di mantenere sempre. Quando fai i numeri che fanno questi ragazzi, hai ragione tu! E il video potrebbe anche chiudersi qui e potremmo tornare a parlare di Plastico Domingo e della trap. Cerchiamo però di andare un pochettino più in profondità nel fenomeno Mineskin. Allora, ho ascoltato il loro ultimo album così come avevo ascoltato il precedente e questo video per certi versi è un po' un'evoluzione di un post che avevo scritto un anno e mezzo fa. Post rispetto al quale non ho per niente cambiato idea, anzi per certi versi sono ancora più confortato in quella che era la mia opinione di partenza. Però io prima sempre ascolto e poi do un giudizio. Devo quindi dirvi che l'ultimo album, Rush, è un album ben fatto, ben scritto e ben suonato nell'ambito naturalmente di quello che è il genere dei Mineskin che è questo rock molto anni 70, moltissimo che poi fondamentalmente, lo vedremo più avanti, è la ragione per cui tanti di quella mia generazione sono un po' arrabbiati nei confronti di questi ragazzi perché fondamentalmente dicono non hanno inventato niente, è assolutamente vero, questi ragazzi non hanno inventato niente, però se dobbiamo essere sempre onesti come ho detto poco fa guardate che lasciamo stare i grandi geni della storia della musica ma limitiamoci all'ambito del rock, i gruppi rock che possono permettersi l'uso di dire oh raga abbiamo inventato una cosa a cui nessuno mai aveva pensato, sono contabili sulle dita di una mano quindi tutti gli altri, cosa ne facciamo? di tutti gli altri gruppi rock normali e per normali intendo gruppi di grandissimo successo che hanno fatto per certi versi la storia di questo genere non li ascoltiamo più, li vogliamo eliminare dalla storia no ovviamente continueremo ad ascoltarli anche se non hanno inventato niente quindi quando guardiamo questi quattro ragazzi non diamo per forza a cercare l'innovazione cioè nel senso l'importante è quello che si fa ma soprattutto quello che si comunica detto in altri termini se domani leggessi un'intervista di questi ragazzi dove dicono oh abbiamo inventato una cosa a cui mai nessuno aveva pensato musicalmente io farò un altro video e vi dirò oh questi si sono fumati un qualcosa di veramente cattivo e non ho perso completamente il contatto con la realtà ma finalmente in cui loro faranno semplicemente il lavoro cioè quello di una rock band per loro fortuna molto amata in tutto il mondo che male c'è vi dirò di più io sono solo contento che un gruppo italiano abbia questo successo a livello mondiale e che faccia questi numeri perché i gruppi o i cantanti italiani conosciuti a livello mondiale non sono tantissimi c'è Ramazzotti, La Pausini, Bocelli, Il Volo sicuramente insomma però voglio dire sono quasi tutti cantanti che hanno comunque nella loro italianità o nel fatto di essere italiani un aspetto importante e sono apprezzati per questa ragione questi quattro ragazzi invece fanno un ripeto un rock che certamente non ci dice niente di nuovo ma che comunque è un qualcosa di non come dire tipicamente italiano cantando in inglese e quindi insomma riuscire ad avere successo come dire sul campo dell'avversario praticando lo sport dell'avversario beh insomma non è un risultato da poco poi se dobbiamo dirla tutta l'ultimo album rispetto al precedente devo dire che c'è stato un crollo verticale delle canzoni cantate in italiano questa cosa un po' mi spiace però tutto sommato ci sta essendo ovviamente partiti da un successo italiano ed essendo diventati ormai un fenomeno mondiale è giusto che è normale, è comprensibile che si esprimano in inglese e che cantino in inglese la cosa che sento spesso dire di Manes è che sono un gruppo costruito certo che sono un gruppo costruito sono un gruppo costruito per andare a intercettare un tipo di pubblico specifico che vedremo più avanti oppure sento dire hanno grosse agenzie alle spas eppure le campane oppure sento dire hanno grosse agenzie di comunicazione alle spalle è certo che ce l'hanno ragazzi come pensate di poter che un gruppo possa arrivare a un successo mondiale senza essere in qualche maniera costruito per il pubblico per il quale è stato fatto e senza avere una grossa agenzia una grossa casa di tecografia alle spalle è impossibile ma questo come dire se è un peccato se è un peccato è un peccato che hanno tutti i grossi gruppi che conoscete tutti i grossi cantanti tutti hanno una grossa casa grafica alle spalle è una grossa agenzia un'agenzia di promozione è una grossa agenzia di comunicazione alle spalle ce l'hanno tutti quindi cosa facciamo non li riteniamo più validi solo perché hanno le spalle larghe detto questo quando si analizza un fenomeno così complesso e è così vasto dal punto di vista mondiale come quello di Maneskin dobbiamo analizzare tre fenomeni e tre aspetti la musica il costume e la moda partiamo dalla musica ho ascoltato come ho detto i loro ultimi due album e ci ho trovato un rock onesto ben suonato e ben registrato va bene insomma non avranno inventato nulla e forse solo un adolescente può ritenere che possono come dire può ritenerli innovativi da qualsiasi punto di vista chi è cresciuto come me a pane e a rock è chiaro che ha nelle orecchie ben altri ben altri valori ben altri gruppi e ben altre qualità ma detto questo ognuno fa il proprio quindi se vi basta un buon rock ben suonato i Maneskin fanno per voi il secondo aspetto cioè il fenomeno di costume per certi versi è speculare a quello musicale voglio dire se vi basta un po' di eyeliner una tuta aderente una certa ambiguità sessuale e qualche parolaccia qua e là per vederci dalla transgressione dall'innovazione vi accontentate veramente di poco ma va benissimo così loro fanno bene il loro lavoro e fanno bene a farlo così quindi chapeau terzo e più determinante aspetto il fenomeno di moda quando si fa un business plan in qualunque settore merceologico la prima cosa che dobbiamo valutare è il nostro target cioè a chi ci stiamo rivolgendo chi è il nostro pubblico di partenza il pubblico naturale dei Maneskin dovrebbero essere ragazzi e ragazzini cioè gli unici a cui si potrebbe far credere che i Maneskin stiano facendo qualcosa che prima non si faceva qualcosa di innovativo quindi il pubblico di ragazzi e ragazzini che oggi è sterminato cioè considerate che oggi comunque nel pubblico ci sono anche gli undicenni e dodicenni che quando eravamo noi ragazzi mediamente giocavano ancora con Big Jim insomma era raro che un bambino un ragazzino di undici anni ai nostri tempi ascoltasse musica rock o andasse addirittura ai concerti accompagnato non accompagnato insomma mediamente non era interessato oggi invece vediamo ragazzini di undici anni di dodici anni che sono dei fan accaniti di questi gruppi ciò significa che c'è un pubblico sterminato di ragazzi e ragazzini a cui rivolgersi il problema di questa tipologia di pubblico che è anche estremamente volubile quindi cambia idea molto facilmente oggi si strappa i capelli per un gruppo e domani non lo ascolterà più perché ci sarà un altro fenomeno da seguire è quindi un target su cui non si può fare pienamente affidamento ecco allora che andare a intercettare anche degli ascoltatori meno giovani che possano ritrovare qualche sonorità a loro nota e gradita può essere una mossa vincente e qui il meccanismo vincente che fa ascoltare i maneskin anche non solo a ragazzi e ragazzini ma anche a gente un po' più adulta è questo siccome mediamente noi della nostra generazione non ne possiamo più di trappe simili ascoltando i maneskin e vedendo che i nostri figli ascoltano i maneskin fondamentalmente diciamo ah basta con la trap vedete un po' di buono sound rock vedete che fondamentalmente avevamo ragione noi e figuratevi pur di aver ragione con i nostri figli venderemmo anima al diavolo figuratevi se non saremmo disposti ad ascoltare un gruppo rock in fondo neanche tanto male quindi l'ultimo album Rush è un bell'album pieno di hit potenziali che possono piacere da New York a Kuala Lumpur tutta roba già sentita ma va bene così insomma non c'è niente di male nessuno ha detto che questi ragazzi debbano inventare nulla prendiamo solo una delle canzoni forse più riuscite dell'album Time Zone Time Zone è basata su un giro di accordi usato 1500 volte la musica rock cioè primo grado terzo grado maggiore reattiva minore sottoluminante ma nessuno ai 1499 che l'ha fatto precedentemente ha già detto eh però questo giro è stato già utilizzato a loro invece viene detto l'unica cosa diciamo che non mi piace moltissimo è un po' la narrazione del gruppo che fino all'altro ieri era suonare per strada e oggi riempie gli stadi questa cosa non mi piace però anche su questa cosa qui non è una cosa tipica loro cioè tutti i gruppi dai Beatles in avanti hanno dovuto partire con una narrazione che all'inizio Poverini non li capiva nessuno che erano squattrinati che vivevano in una stanza in quattro di cui non poteva pagare l'affitto che magari qualcuno ha fatto anche il cameriere per due weekend ad agosto per potersi pagare da mangiare e cose del genere cioè c'è sempre la narrazione del gruppo di ragazzi che viene dal nulla perché questa cosa va venduta per essere per empatizzare col pubblico per empatizzare con la maggior parte di quelli che compreranno i tuoi dischi o verranno i tuoi concerti cioè non piacerebbe mai un gruppo un cantante qualunque adesso ci si mette anche il cane cioè non piacerebbe mai un gruppo un cantante che dovesse partire avendo le spalle larghissime da nascere da una famiglia di miliardari a quel cantante o quel gruppo non daremmo peso non daremmo credito dire ma è arrivato lì perché ci avevi i soldi invece la narrazione del gruppo di poveri ragazzi squatrinati che poi tutto un tratto sono stati scoperti nel mondo funziona sempre però anche in questo tutta roba già vista per cui concludendo che siano un fenomeno ma non dei fenomeni non c'è alcun dubbio piuttosto il punto è vedere se saranno un fenomeno durevole o effimero non so quindi se come dico in una loro canzone toccheranno il cielo e torneranno a mangiare asfalto questo ce lo dirà il tempo ma di una cosa sono convinto e l'ambulanza ma di una cosa sono convinto se questi ragazzi fossero nati a Birmingham o a Seattle non pretenderemmo da loro alcune originalità non pretenderemmo da loro di aver inventato nulla e li apprezzeremo molto di più di quanto li apprezziamo solo perché sono nati in Italia e mentre noi continuiamo a dire eh ma non hanno inventato niente quel leak di chitarra l'abbiamo già sentito quel fil di batterie lo faceva già Phil Collins nel 74 loro riempiono gli stadi pensiamoci alla prossima